Controlli a tappeto sul territorio mazzarese lo scorso weekend. Nel corso di una perquisizione dei carabinieri a casa di un giovane di 27 anni mazzarese sono state rivenute due piante di canapa indica in fioritura e 350 grammi circa di marijuana oltre al materiale per la coltivazione della cannabis. Il ragazzo Nicola Cancemi è finito in manette. L'arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Marsala per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cancemi. È stato sottoposto a regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. E sempre nel corso del fine settimana, sabato sera i carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara hanno arrestato Giovanni Cognata, campobellese di 53 anni, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala dovendo espiare la pena detentiva di un anno per il reato di furto aggravato di energia elettrica commesso nell'estate 2011. Cognata, al termine del fotosegnalamento, è stato accompagnato presso la propria abitazione dove è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare. Balestrate, dopo sei anni parte la raccolta, riparte la raccolta differenziata, partenza falsa, però non tutti i cittadini dotati del kit con i sacchetti, installato anche uno scarrabile nell'ex colonia marina per raccogliere carta, cartone, vetro, metalli e plastica. È iniziata la raccolta differenziata porta a porta balestrate. Da oggi, anche se con qualche disfunzione per via di un sistema che deve ancora essere rodato per bene, finalmente nel paese marinaro è partita a pieno regime la macchina che permetterà di stoccare rifiuti distinguendoli in carta, metalli, umido e indifferenziato. Ieri, sottolinea l'assessore all'ambiente Rosario Vitale, è stato effettuato il ritiro porta a porta anche se non si è seguita la pratica della raccolta differenziata che è partita oggi a pieno regime. Stiamo completando la distribuzione dei sacchetti. È entrato effettivamente in funzione anche il centro di raccolta rifiuti differenziati presso il piazzale dell'ex colonia, quindi chi vuole può anche andare direttamente lì dove troverà un operatore ad assistere aiutando l'utente a smaltire correttamente i rifiuti. Si torna a parlare di differenziata in un territorio dove il porta a porta era stato interrotto nel 2009 a causa di una serie di problematiche di natura finanziaria della Torri di Fiuti Palermo 1. Ricordo ai miei concittadini che la differenziata non è il comune a farla, ma è il cittadino che differenzia. Se il cittadino partecipa a questa iniziativa, senz'altro avremo un grosso risultato e da un punto di vista ambientale, ma anche e soprattutto da un punto di vista economico e finanziario. Il calendario settimanale prevede la raccolta tutti i giorni esclusi il martedì quando avverrà il ritiro solo dell'indifferenziato. Il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì e sabato si ritirerà l'umido che deve essere riposto nel sacchetto di colore marrone. Il mercoledì si ritirerà carta e cartone da conferire nel sacchetto azzurro. Il giovedì la plastica nel sacchetto giallo, il venerdì il vetro nel sacchetto verde ed infine il sabato i metalli nel sacchetto rosa. Il rifiuto potrà essere esposto fuori dalla propria abitazione dalle 21 alle 6, mentre il ritiro avverrà tra le 6.30 e le 12.30. I sacchetti vengono distribuiti direttamente dai nostri operatori. Porta a porta, c'è stata qualche piccola disfunzione perché non siamo riusciti a distribuire i sacchetti in tutto il centro abitato, siamo arrivati fino alla via Felice Russo. Oggi penseremo di completare tutto il comune. Chi è interessato può venire direttamente all'ufficio tecnico, alla direzione lavori pubblici e ambiente e noi daremo direttamente i sacchetti alle persone. Migliaia di esemplari di tonno rosso sotto misura verrebbero pescati giornalmente nel golfo di Castellammare in violazione delle normative in materia. A denunciarlo l'onorevole Valentina Palmeri del Movimento 5 Stelle che ha presentato un esposto all'ufficio locale marittimo. Sotto il silenzio generale, spiega la deputata regionale, nove lame di tonno rosso sotto misura viene pescato giornalmente nel litorale entro la fascia di 2 miglia dalla linea di costa. L'esponente Grillina chiede all'autorità marina di intervenire urgentemente effettuando dei controlli ad unità da di porto sia in mare che presso i punti di sbarco al fine di verificare tali illeciti e prendere immediati provvedimenti. Non possiamo consentire che questo scempio vada oltre e conclude soprattutto in considerazione del fatto che la cattura di specie ittiche sotto misura ha ripercussioni sull'intero ecosistema marino. Donato da privati cittadini un pulmino all'Associazione Sclerosi Multipla di Alcamo sabato la cerimonia di consegna del mezzo a Castellammare del Golfo. Cerimonia sabato prossimo a Castellammare del Golfo per la donazione all'Associazione Sclerosi Multipla di Alcamo un pulmino. Ci sarà la benedizione del pulmino che ci hanno donato all'Associazione Sclerosi Multipla Sacro Cure Alcamo dalla ditta Vernace. La cerimonia avverrà dove c'è la gelateria appunto di questa ditta che è vicino il municipio, nella zona del municipio. Quindi diciamo un importante mezzo di trasporto che chiaramente aiuta molto l'associazione. Assolutamente sì, in effetti l'associazione necessitava di questo pulmino e proprio all'indomani della manifestazione che abbiamo fatto noi quest'estate canta e cammina, questo signore ha fatto veramente un atto di generosità chiamandoci e dicendoci che avrebbe avuto la possibilità di pigliare un pulmino, un pulmino già usato ma in condizioni ottime, ottime. Quanta persona assistete allo stato attuale? Allo stato attuale sono 33, non sono solo di Alcamo ma di Castellammare, Partinico e Calatafime. Questi soggetti, non dico giornalmente ma frequentemente, vengono trasportati all'ospedale di Cefalù, all'ospedale Villa Sofia di Palermo e poi quando necessitano di effettuare le indagini strumentali vedi risonanza magnetica per esempio a Marsala. Quindi veramente abbiamo fatto bingo con questo pulmino che era in programma di comprarlo ma sai un'associazione soledità prima che mette da parte una certa somma ci vuole molto tempo.